L'Italia è nel mezzo di una tempesta. Urge un cambio di passo in politica ed economia per recuperare consensi e agganciare la ripresa, puntando su servizi ed eccellenze. E questa è la sfida di Aerocrash, il nuovo libro di Luigi Mazzella. Oggi noi ci troviamo di fronte ad una perdita di competitività sul piano industriale, quindi la guerra è per indurci a passare dalla società industriale, che non è più competitiva, alla società post-industriale o dei servizi. Sono due rivoluzioni che sia Stati Uniti che Gran Bretagna hanno già fatto e si passò poi a questa fase successiva in cui il polo industriale si riduce soltanto a quelle fabbriche che riescono a fare dei manufatti di eccellenza, cioè che si possono fare in quei paesi e non in altri. Prodotti di eccellenza possiamo farli nel settore agricolo, perché le nostre condizioni climatiche sono tali da garantirci di produrre olio e vino in discreta abbondanza e di ottima qualità. I servizi che possiamo rendere sono quelli turistici e quelli dell'offerta culturale, però per l'uno e per l'altro dobbiamo rivedere abbondantemente la nostra legislazione.